Andiamo al segno della bilancia, l'una che diventa magnifica nel corso della serata, però ancora in mattinata sarete un po' affaticati, affannati anche alla ricerca di soluzioni che riguardano il vostro lavoro, perché questo è un periodo in cui voi state ricevendo anche delle proposte della bilancia grazie a questo mercurio nel segno dei gemelli. Però si sa, voi siete sempre indecisi, quindi dare una risposta diventa un grosso problema, in serata la luna, già nel pomeriggio, la luna nel segno dell'acquario vi rende anche un po' più intraprendenti e coraggiosi. Ecco, questo è un periodo in cui il coraggio dovrebbe far parte del vostro bagaglio di qualità, certo qualcuno diceva al Manzoni che se il coraggio non ce l'abbiamo non ce lo possiamo dare, però cercate di fare di tutto per tirare fuori il meglio di voi stessi, un pizzico più di intraprendenza ci vuole in questo momento e anche in amore con il partner dovete far valere quelle che sono le vostre ragioni.